È tempo di raccogliere i carciofi. Queste sono le mie poche piante di carciofo, da cui vedo rigogliosi spuntare alcuni pelli grandi. È tempo di raccogliere. Ma come si fa? In primis dobbiamo individuare i carciofi più grandi. Andiamo a tagliare. Dal gambo, in prossimità di quelli più piccoli che lasceremo crescere, tagliamo in direzione obliqua. E posiamo in un cestino. Continuiamo a selezionare i più grandi, risparmiando i piccoli. Tagliamo in taglio obliquo e raccogliamo i prossimi. Dopo la raccolta, il taglio si cicatrizza e dona spazio ai piccoli per crescere ed essere raccolti pochi giorni dopo. Bene, noi oggi abbiamo raccolto abbastanza carciofi, pronti per essere cotti e preparati a piacimento. Se ti è piaciuto il video, lascia un like ed iscriviti al canale, così da rimanere sempre aggiornato. Ciao!